Vuoi provare a uccidere questi ragazzi? Vuoi andare a uccidere i ragazzi, provare a uccidere i ragazzi con la butchera? Vete, in questo gioco non si spara, a meno che non ci sia un motivo serio per sparare Nice ragazzi, due team contro me, e tu stai campando? Come on, puoi fare meglio di questo Hello, hello, how is it going mate? What? How is it going? Can you hear me well? Yeah, I can hear you No, please, silent, there are enemies that usually spawn south west, and enemies that south north east, the last thing you want is to say hello, we are here between you Già me lo sono cazziato Oddio, questo di qua subito va a far bordelli, vedete in questo gioco non si spara, a meno che non ci sia un motivo serio per sparare, o a meno che non sia proprio sicuro il fatto che non c'è più nessuno E questo di qua ha detto siamo qua Ora, bastano ste cazzate, ragazzi, ho wipeato da solo team interi perché facciamo volare dei corvi che può anche capitare E questo gli ha detto siamo qua, poi mori male e ti chiedi come cazzo è che sono morto sta partita che non ho fatto niente di qua di là Per questo motivo Andiamo a nascondere due secondi Ok, nemico qua accanto Bravo, il coglione sta tirando il mondo Bravo, pirla Come nemici incollati, vabbè siamo morti qua Se non mi basta sta cosa Guarda, questi erano accanto a noi Wowa, wowa I hit him three times There is one ahead of us and one in the white house Vabbè, questo lico manco Pensa che abbonandoti oggi tutto questo è gratis Sì, mica come quel cretino del vecchio abbonato che per fare lo stesso abbonamento ha dovuto darci una vertebra Una vertebra Ok, quello è morto il mio compagno Sì, sì Ok, dice che sono west Stanno parlando di me Sono sopra di me Sì, sì Loro sanno dove sono Purtroppo devo salire Sì, sì, sì Proprio là sono Ne un'altra alle spalle Sono 3-2 team Come no Come no Come no Due team Wipati Sucate Merda Nice guys Two teams Against me Are you still camping? Come on You can do better than that Prendiamoci questo Meno male che abbiamo In compagnia di team Che era bravissimo Tutti morti L'angelo della morte Ragazzi Come on solid Sorry mate I had to kill Two teams So mate Next time Like I said Don't shoot that early Because You see No problem How much FPS do you got? 39 44 45 At the moment It depends How can you Play with this? Andiamo a prendere L'altra cosa Ok 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 quindi Due sono là Rimangono due In mappa Ci hanno messo una vita Hanno pure L'uscita vicina Siamo quasi al I want to try and kill Those guys I want to go and kill The guys Try to kill the guys With the butcher Did he die? The second one Yes 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 he did Yeah he died He died Wait a sec Wait a sec Let me get the hint here The clue The clue The clue Ok I need a medicine You need medicine Yeah Yeah Ok We got them Get the bounty Ok ragazzi Andiamo a farlo Spider Quello sarà stato Incazzatissima Che c'erano Anterrive Lo tre Cazzuto Ok Ok Let's go And kill The spider Ok Spider Just a moment Let's explode This barrel I don't want The explosive barrel Next to us Ok I feel like A better person Now Ok Minchia Quanto cazzo Che è rotto Mi sputa Quella addosso No Poison Sono qua Senza ammo Sono in merda Proprio sai Ok I'm auto Vammo Mate Totally Come here I'm gonna heal you Stop 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 I'm on I'm on I'm on I'm on I'm on I'm on Just a moment You can heal me? Yes Because I'm the best What? The fuck I didn't know Questa partita Diciamo che È stato ok Fino ad ora I'm on Nice one mate It's been very nice Playing with you Yeah You're nice mate Bye 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 mate Yeah Mi ha detto GG comunque Dice Anche se ci ammazzano ora Comunque è giocato bene Godiamoci un po' i punti Grazie mille Stan Thank you Stan I was saying that I'm playing this game Every night on Twitch So subscribe Follow me on Twitch If you like You'll find You'll find the link In the description On YouTube Underneath the video Or Exclamation mark Twitch And we'll Pop the link in chat Allora Ci sono gli zombie normali Tanti 52 Sono tanti tanti punti ragazzi Questo Hunter Dal livello 1 Vediamo a quando arriva Mi piacerebbe giocare Ma penso di essere A livello di Ameva Bella Stan No non l'ho messa La partner ancora Con Twitch Non ho messo Neanche l'affiliazione Sapete quella Che non ci vuole niente Ci me l'hanno offerta Ma non Ancora Si vuole aiutare Fa una piccola donazione Quando vuole Per ora O Non mi cambia la vita Comunque Grazie mille Muzza Grazie Gioia 18 Hai dato il 19 Ragazzi La cosa bella Hunter uccisi 6 Quello sarà tipo Oh cazza Che Ma Ma Grazie a tutti